Un grandissimo amore, un grandissimo uomo e tanto affetto, Daniela, per Luca. Tanto affetto, tanto quanto lui ne ha dato, con la sua semplicità, con il suo modo d'essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita, che forse se seguissimo quella strada qualche volta ci sarebbero meno problemi fra le persone. È un messaggio che ci lascia forte a tutti noi. Ok, sì, certo. È un messaggio, non lo so, lui non voleva insegnare, non era questo che voleva, però lo faceva, lo faceva col suo esempio, per come era. Anche lui era pieno di aggettivi, pretendi che io ce ne abbia pochi, allora generoso, pulito, serio, inclusivo. Mai ha fatto una differenza fra una persona e un'altra, tra una categoria e un'altra, trattava tutti nello stesso identico modo, che era l'unico che voleva, che era l'unico che sapeva fare. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Grazie. Grazie.